Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video e come avrete visto dalla ricrescita è da un po' che non faccio i video Tipo l'ultimo video che avevo registrato sarà più o meno un mese fa Guarda che figo, con questa docetta mi sento tipo Britney Spears con il serpente E niente, come avrete letto dal titolo, in questo video vi insegnerò, se non lo sapete ma spero per voi di sì Di come lavarvi il sedere, sì, il culetto, se vedete qualche rossale perché ho appena fatto la barba Ma no, e c'ho un po' la pelle delicata E niente, in questo video, come vi stavo dicendo, vi insegnerò su come pulirvi il sedere senza bidet Perché io da poco sono andato a vivere, è un parolone, all'estero E infatti vi avevo registrato un video tipo all'aeroporto, solo che quella che parlava e i rumori non si sentiva niente Però se il mio potere di editing me lo permette, vi metto un pezzo perché è troppo trash No, vi spiego in poche parole, poi andiamo al punto del video Sta telecamera l'odio perché è a specchio, quindi se io vado a destra, là risulta che vado a sinistra Ed è un trip mentale enorme E niente, vi stavo dicendo che era troppo trash perché praticamente io avevo rimorchiato questo Nel senso che io stavo a fare colazione, merenda, uno mentre aspetta l'aereo che fa magna, no? E vediamo questo che mi riguardava, mi riguardava, mi riguardava, no? Poi vabbè io mi metto a registrare il video e questo che fa passa dietro e guarda dentro la telecamera Quindi se io riesco io metto quel pezzo, quel pezzo là, no? Che dove vi mostro che ho rimorchiato questo Ed è sicuramente troppo trash perché poi lui passa e guarda pure, quindi Potevamo fare un video insieme È stato bello, follettino E niente Adesso passiamo al video Allora, come vi stavo dicendo, sono andato da poco a vivere all'estero Quindi per me cagare senza bidet Cioè nel senso, io in Italia non cago se non c'è il bidet Poi ognuno fa quello che gli pare Però io non mi sento a mio agio senza bidet, no? Quindi nel senso Per me fare i bisognini senza bidet Era un po' un trauma, no? Infatti i primi periodi, i primi giorni che arrivavo qua Non c'avevo tutta sta voglia di fare la popò, no? Quindi nel senso Me non la facevo, meglio stavo Nel senso magari cagavo una volta ogni due giorni Vabbè, poi magari per qualcuno è normale Però io di solito in bagno ci vado regolarmente, no? Ed era proprio per me un grande ostacolo quello di cagare senza bidet, no? Solo che poi necessità fa virtù E ci ho fatto l'abitudine E devo dire che alla fine non è tutto questo trauma E infatti in questo video, come vi stavo dicendo Vi spiegherò come lavarsi il sedere in modo corretto Però nel senso, a me è quello che mi dà fastidio Che non riguarda solo il sedere, però pure là davanti Perché come vi faccio vedere Nel senso, il bidet c'ha un getto continuo Invece la doccia, il getto continuo del bidet non ce l'ha Quindi come ti puoi lavare bene Se non c'hai un getto tipo quello della pompa, no? O quello del bidet che è un getto grande e continuo Però c'hai tipo questi schizzetti Cioè, tipo questi I ravanelli che c'hai nel sedere Non te li sciacqua Cioè, rimangono incastrati là Per questo dico Perché, cioè, io vorrei entrare in politica O se c'è qualche politico all'ascolto Rendete il bidet nazionale E niente, come vi stavo dicendo Per me prima è un grande ostacolo Però poi ci ho fatto l'abitudine Ah, vi stavo pure dicendo Che non riguarda solo dietro Nel senso, cioè Io c'ho Vabbè che può capitare ovunque Però metti caso tu vai a fare Vai a suonare il flauto di qualcuno inglese o americano Cioè, io c'ho sempre il terrore che vado Da pescaria a Milano Oppure vado in pescheria, capito? Cioè, non so la sineretta che voglio Le cose che sanno di pesce, no? E niente Quindi, passiamo al clou del video Come mi lavo O ci laviamo il sedere senza bidet Allora, come prima cosa Serve la carta igienica Infatti c'è Appena fatto, però questo si fa pure in Italia Levate ogni residuo di cioccolata Dal sederino E io quando non ci stanno più Questi residui Uso le salviettine Quelle umidificate Non si chiamano così E quindi niente Io uso queste salviettine E queste me le porto pure appresso Perché io ho chiesto Cioè, io veramente Cioè, i primi giorni che stavo qua Appanicavo Perché, nel senso Io dopo un po' Mi polivo perfettamente Però dopo un po' Il sedere mi bruciava sempre Quindi io già pensavo Oddio Mo c'ho Il buco del culo Spianato Non so come si A Roma si dice Spianato Spallato? No Spianato Praticamente che In poche parole È rotto, no? Infatti già pensavo Oddio Mo dovrò andare Al pronto soccorso A farmelo ricucire, no? Perché Pensavo Cioè, che era rotto Quindi mi perdeva Per questo mi pizzicava, no? Cioè In Italia non mi era mai successa Sta cosa Che Dopo che te la vite Pizzica sempre, no? Però poi ho chiesto A qualche Qualche amico mio Che abita all'estero O comunque viaggia spesso E lui mi ha detto No, pure a me Loro Mi hanno detto No, pure a me È normale Quando cammini Ti brucia Però penso perché Appunto non c'è il bidet Ma c'è sta doccia Che non c'ha Il getto continuo, no? Ma c'ha Tanti sti cosi Che non ti lavano bene Secondo me E niente Quindi io Mi lavo con queste E poi le salviettine Me le porto pure appresso Perché Cioè Non capita sempre Però capita Che te brucia Ed è fastidioso Perché se te brucia Significa In poche parole Che è sporco, no? E poi Se sto a casa Dopo le salviettine Uso la doccia E la doccia L'uso un po' come fosse il bidet Capito? Lavo bene là sotto Con Dipende O col sapone intimo O col bagno schiuma Visto che Ultimamente Te vado a risparmio Uso il bagno schiuma E niente Questa era Che poi c'è Manco ho visto se c'è il brotalco Però lo voglio ricomprare Perché io in Italia Lo uso sempre Cioè Io dopo Aver fatto il bidet O la doccia Mi metto il brotalco Ovunque Infatti devo vedere se c'è qua Però penso di sì E poi me lo comprerò E niente Questa era la mia Bidet routine No La mia senza bidet routine Io spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere Se voi avete qualche tip Qualche trick Qualche consiglio Per lavarsi il sedere Senza bidet Che sono sempre utili E niente Io spero che questo video Vi sia piaciuto E spero vi sia stato utile Se non sapevate Come lavarvi il sedere E niente E noi ci becchiamo Un prossimo video Ciao Baci stellari